Cominciamo a parlare dai mondi erranti. Ci sono nello spazio tantissimi pianeti che si sono formati come il nostro ma che poi per giochi gravitazionali sono stati espulsi dal loro sistema. Questi mondi sicuramente sono tanti perché le teorie di formazione del sistema solare e dei sistemi planetari ne prevedono l'esistenza e immaginiamo questi mondi come dei giganteschi deserti gelidi, anche se in alcuni ambienti la geotermia potrebbe alimentare degli ecosistemi complessi. Magari alcuni di loro hanno avuto per diverso tempo un'orbida stabile intorno a una stella, magari ospitando anche vita, e oggi sono degli oggetti molto freddi, dove solamente in ambienti geotermici la vita potrebbe avere qualche speranza di sopravvivere. Per nostra fortuna la Terra non è così. Il motore principale del sistema climatico terrestre è ed è sempre stato il Sole. La sua radiazione mette in moto tutti i meccanismi climatici e alimentano la vita del pianeta, proprio la vita complessa del pianeta la dobbiamo grazie al Sole. Senza di esso perfino i gas che compongono l'atmosfera congelerebbero coprendo la superficie con spessi strati di azoto solido, proprio come avviene, o comunque ci immaginiamo, questi pianetierranti orfani della propria stella che vagano nella galassia. La radiazione solare può essere espressa sotto forma di questa espressione. La potenza della radiazione equivale a energia solare fratto l'unità di tempo in cui arriva. Questa potenza, ovviamente espressa in Watt, viene chiamata costante solare. Misura la potenza energetica che colpisce una superficie posta perpendicolarmente alla distanza media tra Terra e Sole, che sono di circa 150 milioni di chilometri. A questo va aggiunto il fatto che il Sole non è sempre costante, ma ha delle fluttuazioni con un circo di circa 11 anni, in cui la variazione non supera mai lo 0,1%. Infatti, durante il minimo solare, che si può osservare quando il Sole ha un numero minore di macchie solari, la costante solare misura 1361 Watt sul metro quadrato, mentre durante i massimi solari, quando la superficie solare è occupata da molte più macchie solari, viene misurata una costante solare di 1362 Watt per metro quadrato, quindi la variazione è veramente minima, almeno adesso. Ci sono stati momenti storici in cui il Sole può aver avuto variazioni molto più ampie. Sicuramente il periodo freddo registrato nel Medioevo, dal 1300 al 1800, denominato piccola era glaciale, è stato dovuto a un'attività molto minima dell'era solare, però negli ultimi 400 anni non ci sono state grandi variazioni di oltre lo 0,2% di questa costante solare, quindi possiamo dire che il Sole pone alla Terra un flusso energetico abbastanza costante, e questa costanza regola il nostro clima. Nel passato variazioni di radiazione solare hanno causato cambiamenti climatici e lo fanno ancora, però, come vedremo in questa lezione, spesso i cambiamenti climatici sono innescati da cause interne al pianeta e più raramente da cause esterne, quindi il Sole è una stella molto affidabile, la sua costante solare è molto affidabile, e la maggior parte dei cambiamenti climatici terrestri avvengono a cause interne dovute a fenomeni geologici, chimici, biologici e fisici, che abbiamo già visto e vedremo bene in questo corso. In questa lezione in particolare parleremo della capacità che ha la Terra di assorbire luce e calore dal Sole e come questa capacità può variare nel tempo con il cambiamento di alcune caratteristiche superficiali e atmosferiche. Intanto vediamo come si calcola la radiazione solare. La radiazione solare diminuisce con il quadrato della distanza. Cosa vuol dire? Quando un pianeta si trova al doppio della distanza della Terra, subisce una diminuzione della sua costante colare di un fattore al quadrato. Il quadrato di 2 è 4, quindi Marte che si trova al doppio della distanza tra la Terra e il Sole riceverà un quarto della radiazione solare, quindi la costante solare marziana che riceve Marte è un quarto di quella che riceve la Terra, nonostante la sua distanza sia solamente il doppio. La formula è questa. Abbiamo la distanza Terra-Sole che viene applicata nella formula, quindi la costante solare del pianeta B, in questo caso Marte, equivale a 1 fratto la costante solare che riceve il pianeta A, però elevata al quadrato. Quindi, andando a fare i conti, esce fuori che la radiazione solare che riceve Marte è lo 0,25 volte di quello che riceve la Terra, quindi un quarto. Se Marte fosse stato 3 volte più distante dal Sole, 3 al quadrato mi darebbe 9, la costante solare di Marte sarebbe 9 volte inferiore. Quindi c'è questo rapporto in cui la costante solare diminuisce di un fattore al quadrato rispetto alla distanza di cui ci si allontana. Ovviamente questa regola vale per tutti i pianeti del Sistema Solare e per tutte le stelle dell'Universo e nel caso volessimo calcolare la costante solare di Nettuno, che è circa 30 volte più distante dal Sole rispetto alla Terra, andando ad applicare quella formula ci verrebbe un valore prossimo a un millesimo, perché 30 per 30 fa 900. Poi considerando che in realtà la distanza è più di 30 volte sicuramente ci avviciniamo a un fattore che è di circa un millesimo, quindi Nettuno riceve un millesimo della radiazione solare che riceve la Terra, è un pianeta molto freddo. Oltre a questo dobbiamo considerare il fatto che tutte le orbite, secondo le leggi di Keplero, sono ellittiche, quindi l'orbita della Terra, come quella di tutti i pianeti, è ellittica e la Terra varia la sua distanza durante l'anno con il Sole. La Terra si trova un po' più vicina al Sole a dicembre e un po' più lontana a giugno, quindi quando siamo in Perielio, nel mistero nord è inverno, nel mistero sud è estate e ci troviamo a circa 147 milioni di chilometri dal Sole, quando siamo in Afelio, siamo in giugno e nel mistero nord è estate. La Terra si trova circa a 152 milioni di chilometri dal Sole. Abbiamo una variazione della costante solare di circa il 3% durante l'anno. Come vedete, questa variazione solare influisce non poco sulle stagioni, perché questo permette all'emissero nord di avere inverni più umidi ed estati più fresche, impedendo che le calotte di ghiaccio possano crescere troppo. Quando vedremo in dettaglio le ere glaciali, vedremo che con i modi millenari questa condizione può cambiare e nell'arco di migliaia di anni la Terra può trovarsi al Perielio durante l'estate nel mistero nord e alla Felio durante l'inverno nel mistero nord. In quel caso si possono innescare le ere glaciali, ma questo lo vedremo in un'altra lezione. Quindi in questo momento geologico abbiamo il sostizio d'estate nell'emisfero nord, quindi da noi, quando la Terra si trova in a Felio, a 152 milioni di chilometri, e il sostizio d'inverno nell'emisfero nord, quindi anche qui da noi, quando la Terra si trova in Perielio, a 147 milioni di chilometri della nostra stella. Quindi durante l'anno la Terra subisce una variazione di costante solare pari circa al 3%. Dobbiamo ancora considerare un altro parametro, ovvero che la Terra è rotonda. La forma sferica della Terra condiziona notevolmente la concentrazione delle radiazioni solari incidenti alle diverse latitudini, perché prima abbiamo visto che questa costante solare è calcolata per una superficie perpendicolare alla radiazione solare alla stessa distanza dalla Terra al Sole, ma la superficie perpendicolare non c'è se non all'equatore e se non per alcune ore al giorno delle 24. Quindi in realtà il calcolo che dobbiamo fare è ancora più complesso. Intanto vediamo come la radiazione cambia intensità alle diverse latitudini, perché i raggi del Sole arrivano alle diverse latitudini con un'incidenza diversa rispetto al suolo e quindi distribuiscono il calore su una superficie minore o maggiore in base all'angolo di incidenza. All'equatore la concentrazione dei raggi solari sarà massima, perché lì effettivamente avremo una superficie perpendicolare all'incidenza dei raggi. Man mano che ci spostiamo verso i poli, questa incidenza avrà un angolo sempre più obliquo e ogni volta che questo avviene l'energia viene dispersa su una superficie maggiore, riscaldando effettivamente di meno. È per questo che ai poli fa più freddo e all'equatore fa più caldo, perché l'intensità di raggiamento è diversa. Ma inoltre considerato che la Terra ruota, quindi calcolando quella costante solare che varia tra 1361 e 1362 Watt su una superficie sferica in rotazione che si completa in 24 ore, alla fine otteniamo una costante solare media di 340 Watt per metro quadrato, calcolato al valore minimo solare. Quindi il minimo che la Terra riceve dal Sole nelle 24 ore è di 340 Watt a metro quadro. Questo valore calcola la media delle 24 ore, considerando che l'incidenza dei raggi solari cambia durante le diverse ore del giorno, con le ore notturne in cui non c'è niente. Quindi la media finale della costante solare per la Terra, considerando tutti i fattori geometrici della sua forma e della sua rotazione, scende a 340 Watt a metro quadro. E questo è il valore di costante solare di riferimento da prendere in considerazione nel fattore climatico del pianeta. Questo è solamente un estratto della lezione completa. Nella lezione completa spiegherò che cos'è la costante solare e come questo interagisce con l'eccentricità dell'orbita. Poi vedremo che cos'è il bilancio energetico, come si calcola e quali sono gli elementi terrestri e atmosferici che influenzano questo bilancio energetico. E poi ovviamente anche come cambia nel tempo. Parleremo del rapporto tra radiazione riflessa e assorbita dal pianeta e come questo bilancio condiziona poi il clima terrestre. E poi parleremo dell'esperimento umano, ovvero le attività umane che stanno modificando la composizione chimica atmosferica e anche l'interazione con altri sistemi climatici. È stato definito da molti scienziati il più grande esperimento che l'umanità abbia mai fatto su questo pianeta, ovvero cambiare effettivamente il clima del pianeta. e vedremo che l'impronta umana è diventata una forzante al pari di quelle naturali che si fa sentire e come sul sistema climatico globale. Potete trovare questa lezione, la numero 4, l'effetto albedo, e tutto il corso di climatologia sul mio canale YouTube e sulle mie pagine social prof. Antonio Loiacono. Grazie.